Allora, buon pomeriggio a tutti, è un piacere salutare gli speaker di oggi, Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che naturalmente qui è in una doppia veste come istituzione scientifica di altissimo profilo, peraltro qui a Genova, quindi un contributo fondamentale alla scienza e alla tecnologia della città e anche come socio del festival, perché l'Istit è uno degli enti scientifici italiani che contribuisce e arricchisce il festival con eventi. Oggi ci racconterà di un tema che quest'anno abbiamo voluto evidenziare nel programma di quest'anno, la parola chiave di quest'anno è cambiamenti, fra i tanti cambiamenti rilevanti ci sono quelli che la tecnologia e la scienza possono portare alle persone con disabilità e in questo senso si inserisce questo evento in questa parte del programma. Ce ne parlerà Roberto con collaboratori di eccezione come Massimo De Felice, Martina Caironi e con un eccezionale moderatore come Gabriele Beccaria. Come da tradizione Luca, del lavoro, presenterà l'evento, la biografia degli oratori, quindi a loro lo stage. Buon ascolto a tutti. Buonasera a tutti, sono uno studente del liceo classico Giuseppe Mazzini di Genova e sono con la conferenza intitolata Innovazione per l'abilità motoria, tenuta da Roberto Cingolani, Gabriele Beccaria, Massimo De Felice e con la collaborazione di Martina Caironi. Negli ultimi anni la nostra concezione su chi ha delle disabilità motorie è notevolmente cambiata e questo è grazie ai nuovi processi tecnologici che si sono scoperti. Il frutto della collaborazione tra IT e Inail è stato molto importante per realizzare il progetto Movendo. La Movendo Technology è stata fondamentale per questi progressi e qui con noi possiamo, grazie alla testimonianza di Martina Caironi, vincitrice della medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, capire come questo possa essere importante per continuare a sognare, perché lei è riuscita, nonostante dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale nel 2007, a farsi forza ed arrivare fino alla tanta agognata medaglia d'oro. Il progetto Movendo ha compiuto delle innovazioni strabilianti nel campo della protesica e della riabilitazione e qui con noi abbiamo dei moderatori straordinari e degli ospiti straordinari che ci possono spiegare come l'IT è passato dal 2013, dall'inizio, dal progetto UNOVA, a diventare non solo un centro di ricerca di eccellenza ma anche un incubatore di imprese. Quindi i scienziati dell'IT da produrre robot sono passati a smontare questi robot per applicare delle protesi nel corpo umano e questo loro atto è stato fondamentale per far continuare a sognare chi soffre di disabilità motoria. Grazie per l'ascolto e senza ulteriori indugi lascio la parola ai nostri relatori. Grazie a tutti. A questo punto grazie allo studente che è stato bravissimo, ha fatto il lavoro di moderatore già molto meglio di me. Oggi siamo qui per parlare io direi di tecnologia amica, parliamo visto che il tema di questo festival è cambiamenti e ci interroghiamo sempre sui cambiamenti della scienza e della tecnologia. Credo sia interessante e anche entusiasmante vedere oggi una serie di prove evidenti di come davvero la tecnologia può aiutarci a rivoluzionare la nostra quotidianità e anche portarci a fare cose che non immaginavamo di poter fare. E quindi oggi abbiamo la fortuna di avere tre diverse persone, tre diverse figure direi professionali che ci danno tre diverse prospettive di questa tecnologia amica. Prima di tutto Martina Caironi che come atleta paralimpica ci può raccontare da una parte il ritorno alla normalità nella vita quotidiana ma anche poi la capacità di andare oltre, di superare i limiti e di diventare la campionessa che tutti conoscete. Poi abbiamo Massimo De Felice che invece ci può raccontare prima di tutto gli aspetti se volete più pratici e operativi di queste tecnologie protesiche e riabilitative e poi Roberto Cingolani che è la mente tecnologica che nello stesso tempo ci può raccontare il presente e il futuro e le prospettive che ci aspettano. Quindi io direi possiamo iniziare con una breve carrellata dei nostri tre ospiti che per qualche minuto con qualche video veramente veloce possono darci una prima prospettiva di quello che fanno. Prego Martina, grazie. Buongiorno a tutti, sì dunque io avrei tantissime cose da dire perché sono dieci anni che porto una protesi per camminare e poi in questi anni ho provato varie protesi per correre, saltare, fare snowboard e quindi ho una familiarità giornaliera con uno strumento esterno che però è diventato ormai una parte di me. Se vogliamo partire proprio in grinta ho un video di un minuto in cui si vede una serie di attività che sono in grado di fare. C'è anche una musichetta che però io commenterò. Allora queste sono le mie protesi nel bagagliaio, queste sono io quando ho i capelli lunghi che vado sui pattini e in bicicletta. Il ginocchio che indosso è un ginocchio elettronico che è quello che vedete che indosso anche adesso. È una tecnologia nuova, questa invece è la protesi da snowboard. Qua ero ancora le prime armi, comunque nonostante ciò vedete che riesco a scendere e pensate che io prima di perdere la gamba non avevo mai fatto snowboard, quindi è qualcosa che è venuto dopo. Questa è la protesi da corsa e questa invece è l'applicazione che ho sul cellulare per cambiare le varie funzioni che la mia protesi ha. Infatti qua vedete che metto la modalità pattini. Esiste la modalità bicicletta, esiste la modalità ping pong e poi altre modalità che si possono cambiare con un computer, con un software e che comodamente appunto come si dice no basta un click io cambio. Adesso qua insistono con questo. Questa invece è la protesi da salto, questo è un allenamento a Bologna, io sono di Bergamo ma vivo a Bologna e questo è solo un allenamento quindi corri in corsa breve, questa è una delle partenze. Qua purtroppo il video non è dei migliori perché stava per venire il diluvio universale, c'era allerta anche a Bologna. Come vedete c'è un invaso e c'è un ginocchio che si snoda, questa è la finale olimpica a Rio nel 2016, partenza dai blocchi e la corsa è abbastanza fluida. Quel ginocchio non è sicuro, nel senso che si piega ma poi vabbè qua stavo rischiando di perdere la protesi perché tra le altre cose anche l'invaso deve essere perfetto e se dimagrisci, come è successo a me anche negli ultimi mesi, l'invaso non va più bene e quindi rischi di perdere la protesi. Quindi questo era un breve video introduttivo che però riassume abbastanza un quadro di quante cose si possono fare grazie alla tecnologia che poi è il tema di cui parleremo più a fondo oggi e la mia esperienza appunto in questi anni mi ha fatto realizzare l'importanza di poter accedere anche a questi ausili. Sfortunatamente non tutti possono accedere ad un tipo di ginocchio, io posso parlare proprio di ginocchi di ginocchi in questo caso perché c'è molta differenza tra chi ha una propria articolazione e quindi ha bisogno di una protesi transtibiale e chi invece non ha un'articolazione e quindi ha bisogno di un ginocchio che sia elettronico o meccanico. I costi sono proprio su due pianeti diversi ma poi magari lo direte voi. Io, cioè fermami perché ancora due minuti, appunto ho due prospettive. Ho la prospettiva di persona normodotata, quindi fino a 18 anni io ero atleta, cioè atleta, ero sportiva, facevo pallavolo, facevo tutto con le mie gambe. Poi ho avuto questo incidente che ha ben descritto il ragazzo che era molto preparato, ti ringrazio per la presentazione, e dopodiché io ho voluto ricominciare a fare tutto quanto. Quel tutto quanto era dal semplice camminare, che quindi anche lì ho visto l'evoluzione di varie protesi, ho avuto la prima protesi meccanica con cui avevo spesso mal di schiena, poi una protesi elettronica che non poteva entrare in acqua, quindi ho imparato a fare la doccia su una gamba, anche con gli occhi chiusi perché sennò entra lo shampoo, che sono tutti piccoli dettagli che però quando ti ci trovi dentro ti rendi conto di quanto fa la differenza, puoi avere una protesi elettronica che ti fa fare le scale, che ti fa scendere le scale, che ti fa entrare in acqua e la devi caricare ogni cinque giorni, quindi hai tutto il tempo tipo io qua ho portato il caricatore ma ci sono delle volte in cui vado in trasferta e non me lo porto neanche. E vuol dire una libertà mentale, la libertà di dire entro in doccia con le mie gambe perché alla fine è la mia gamba e poi esco, l'asciugherò come asciugo la mia di gamba, oppure vado al mare e io entro e se c'è un'onda non rischio di cadere e affogare ma magari mi tiene e ci sono tanti altri esempi. Dopo magari appunto vi parlerò anche di tutto l'aspetto sportivo e dell'importanza poi anche se vogliamo riabilitativa dello sport. Grazie Martino. Grazie Martina per questa introduzione così appassionata e interessante. Io adesso lascio la parola a Massimo De Felice, presidente dell'INAIL che ci racconta invece gli aspetti più anche istituzionali e pratici per tante persone che come Martina hanno bisogno di una protesi. Prego. Grazie. Magari anch'io inizierei con un brevissimo filmato per far vedere che cosa l'INAIL è anche oltre ciò che tutti riteniamo e cioè soltanto un istituto che fa assicurazione. In questi anni ho avuto l'opportunità di utilizzare le protesi tridigitali però non aveva quelle caratteristiche che mi riportavano a una mano naturale. Io cercavo di fare tutto il possibile con la mano sinistra. Il mio obiettivo finale serve quello di dire questa è la mano destra, io ero destro perché non do priorità alla mano destra. A circa 20 chilometri da Bologna, a Vigorso di Budrio, sorge il centro protesi dell'INAIL. Il complesso, inaugurato nel 1961, era stato destinato al proseguimento delle cure iniziate nei centri traumatologici e alla reintegrazione della personalità e delle funzioni degli infortunati sul lavoro. Ogni amputato è seguito personalmente dai tecnici che curano con una dedizione che è quasi dimenticata altrove, quella che viene chiamata umanizzazione o personalizzazione della protesi. È un po' difficile abituarsi alle protesi? Beh, è un po' difficile sì, anche perché 20 anni fa, 21 anni fa non c'erano le protesi che c'erano il giorno d'oggi. Sono abbastanza buone, sono quasi perfette. Io direi che il giorno d'oggi non ci sono problemi. Ma tu so che cammini, vedi la macchina, balli, ma ho detto che tu balli e non balli in te, non ti stanchi mai. Non ho problemi, io direi che attualmente adesso non me ne accorgo neanche di... Cioè è come cattare praticamente un paio di casi. Tra i motivi per i quali il centro protesi, INAIL, di Vigorso, è conosciuto in tutto il mondo, vi è quello della ricerca scientifica e della applicazione degli archi superiori, braccia e mani, mioelettrici. Mios, dal greco, significa muscolo. Vuol dire che noi oggi utilizziamo la corrente muscolare, attraverso la quale noi controlliamo i movimenti di una protesi. Lo sport inteso come terapia è praticato sin dal secondo stadio della rieducazione nel seguente ordine, tennis da tavolo, nuoto, arco, palla canestro, lancio del giavellotto, della clava e della palla di ferro, scherma, fioretto per le donne e sciabola per gli uomini. Il mio sogno si è realizzato! Come avviene l'impulso del movimento della mano? Qui ci sono due sensori elettrici sul risedio dell'avambraccio e con gli impulsi cerebrali che io mando al muscolo vengono trasformati in movimento. All'origine furono messi insieme, parlo proprio degli inizi, otto ragazzi con talento artigianale, falvegnami, meccanici, calzolai che realizzarono quella prima mano un po' legnosa ma anche quella avveniristica che nel 65 aprì la via a un nuovo tipo di protesica. Una protesi diventa umana solo se coloro che la costruiscono sanno che in quei pezzi di plastica, di acciaio e di alluminio deve esserci anche l'amore per chi ha conosciuto il dolore e l'emarginazione. A vigorso lo sanno. Ecco avete visto un'attività secondo me fondamentale assolutamente caratterizzante dell'INAIL vorrei richiamare l'attenzione su una delle frasi che abbiamo sentito e cioè quando iniziò l'attività, l'attività di questo genere l'attività protesica iniziò negli anni 60 la prima mano, come dicevo, un po' legnosa fu di quel periodo, nel 65 ci fu il brevetto della prima mano mioelettrica quando iniziò quel tipo di attività fu necessario mettere insieme una serie di specializzazioni anche artigianali e cioè furono messi insieme fisioterapisti, medici artigiani del legno, artigiani dell'elettricità tecnici dell'elettricità ma anche calzolai perché poi fu necessario ricoprire questo arto in modo funzionale. Il tempo è passato e il filmato vi ha dato un po' il senso anche dell'evoluzione storica tramite la considerazione dei diversi meccanismi che avete visto il tempo è passato ma oggi noi ci troviamo in una situazione analoga per fare bene protesica dobbiamo mettere insieme diverse competenze molto varie ma altissimamente specializzate e quindi abbiamo cambiato modello di collaborazione cioè l'Inail ha tentato, sta riuscendo a costituire una rete ampia di competenze e la rete ampia di competenze è fatta con centri di eccellenza che ciascuno contribuisce per la sua competenza a lavorare in questo progetto corale che poi è la creazione delle nuove protesi ma l'assistenza continua che viene fatta verso gli utilizzatori di queste protesi che dal nostro punto di vista e dal punto di vista credo anche dell'Istituto Italiano di Tecnologia che è uno dei poli di eccellenza a cui l'Inail fa riferimento dicevo gli utilizzatori delle protesi diventano veri e propri attori del processo realizzativo perché come si diceva per realizzare una buona protesi la protesi deve essere ritagliata sull'esigenza e sulla struttura dell'utilizzatore quindi abbiamo messo insieme equip composite non bisogna trascurare che componente essenziale di queste equip è anche la competenza psicologica perché riacquistare funzionalità che prima erano funzionalità naturali tramite invece strumentazione protesica è anche un esercizio psicologico e mentale avete sentito il signor Zambelli che è lo sperimentatore della mano Hannes lo ha detto chiaramente ho riacquistato una dimensionalità che avevo perso con l'utilizzazione della mano robotica io per ora mi fermerei qui ecco Roberto Cingolani direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia la mano Hannes è nata nei vostri laboratori quella che abbiamo visto quindi ce la può raccontare fatemi fare una brevissima premessa mentre sentivo Martina descrivere la sua vicenda la sua storia a parte l'immensità dell'approccio questo l'hanno notato tutti mi è venuto in mente un parallelismo loro sono lei e altri conosco Zanardi ne conosco diversi sono degli astronauti nello spazio del movimento e senza di loro tutte queste tecnologie rischierebbero di svilupparsi molto più lentamente già si sviluppano lentamente per le necessità ma veramente se non avessimo persone così in grado di essere loro stesse scienziate del movimento di esplorare noi non avremmo feedback lo dico tra l'altro con cognizione di causa poche settimane fa mi sono fracassato un'anca ho rotto la capsula articolare non riesco più a camminare forse dovrò mettermi la protesi questo perché sono un mediocre sportivo e dovrei rinunciare ma insomma ormai è fatta e non hai idea di come probabilmente l'avete chi ha avuto incidenti come cambia l'orizzonte dell'esistenza il fatto di non poter fare movimenti abituali che vengono dati per scontati io non lo so pensare cosa voglio dire che a un certo punto ti manca un pezzo fondamentale per la deambulazione per la stabilità dinamica per lo sport allora vedere scusa quanto c'hai sui 100 metri ho visto che a un certo punto era 7 secondi ma ne mancava ecco secondo me io non faccio 14 secondi sui 100 metri è questo che probabilmente no ma è veramente impressionante vedere come come riescono ad andare oltre e il loro feedback è fondamentale per noi allora diciamo detta questa premessa che è veramente sentita volevo sì tornare indietro però scusate vado un attimo al computer a proposito di alzarsi ecco volevo utilizzare questi pochi minuti che avevo per condividere la risposta di questa domanda come siamo arrivati sin qui cioè in realtà alla base di tutto ci sono delle idee un po' pazze che sono nate nel 2004 o 2003 o giù di lì e poi c'è stata tanta pazienza sul fatto che queste idee 80% muoiono 20% sono promettenti di questo 20% una piccolissima frazione ha probabilità di essere utilizzabile nel momento in cui la tecnologia più o meno ci sembra che possa funzionare da quel momento in poi dobbiamo evitare un errore tipico cioè la tecnologia deve essere non imposta top down come i telefonini ma in realtà rivisitata bottom up andando a parlare con quelli che la tecnologia la devono utilizzare perché non è un telefonino è qualcosa che indossi che ti serve a vivere e qui ci vuole una grande umiltà e anche una grande voglia di imparare quali sono i problemi quindi discutere nel caso specifico con medici e pazienti qui è successo qualcosa che non aveva precedenti IT e INAIL si sono parlati è una roba che non è molto frequente soprattutto nel pubblico e devo dire che è stato molto interessante come esperimento perché guardate qui vedete per esempio queste sono immagini del 2006 noi lavoravamo sulle gambe e per noi il problema era fare un sistema che avesse una stabilità dinamica equivalente a quella dell'essere umano e non potete fare questi esperimenti con gli umani perché li dovete fare a pezzi il bello della robotica è questo diciamo che scomponete il pezzo che vi serve e fate quello che volete e capite qui è inutile che io vi dica quanto costa questo oggetto uno dei messaggi di Martina sono stati la democratizzazione della tecnologia cioè il fatto che non tutti si possono permettere una protesi da 250.000 euro quindi la prima cosa è sviluppiamo la formula 1 e questa diciamo 12 anni fa lo era già per certi versi però poi poniamoci il problema di come questa possa essere realmente fruibile guardate qui guardate il livello dell'acqua ecco questa è una cosa interessante perché sono limiti di stabilità dinamica che probabilmente un umano forse molto molto preparato atleticamente potrebbe sostenere ma certamente non una persona normale tenete conto che questo è fatto senza ecco scusate ma senza avere l'intero corpo a disposizione ma solo la parte bassa quindi cambiando ok faccio così che viene meglio quindi cambiando il centro di massa è molto importante perché se io avessi il corpo sopra quindi altrettanto peso il centro di massa di questo sistema sarebbe diverso e tutta la sua stabilità sarebbe diversa l'idea era devo fare un esoscheletro una roba che io posso vestire non avendo l'uso delle gambe quindi mi deve calcolare l'equilibrio con questa strana forma da mezzo corpo non da corpo intero a distanza di 4 anni è diventato un sistema estremamente economico questo lo stiamo sviluppando con i colleghi dell'Ineil queste sono le primissime prove sono di un paio d'anni fa allora esiste della concorrenza però costa 240-250 mila euro è di origine militare si veste con dei grossi pacchi di batterie delle spalliere una specie di zaino pesantissimo questo è un sistema che aveva una caratteristica abbiamo chiesto ai pazienti e ovviamente con i colleghi dell'Ineil qual è la prima cosa che volete e ci hanno detto lo vogliamo vestire da soli vogliamo vestirlo mentre siamo seduti sulla sedia oppure se siamo a letto non dobbiamo chiamare una persona che ci dia l'autonomia di andare in bagno che è esattamente l'opposto di quello che io pensavo ingenuamente forse vogliono fare le maratone no ci hanno detto vogliamo essere autonomi mi rendo conto che può sembrare forse banale ma la tecnologia cambia enormemente se devo fare un esoscheletro da maratona o se devo fare un esoscheletro che è vestibile stando seduti da soli due velcri batterie superleggere tra l'altro questo qui è un'unica misura che si adatta poi con dei semplici innesti a diverse altezze e segmenti antropometrici questo è un oggetto che se a un certo punto arriva sul mercato ha dei costi che sono compatibili col sistema sanitario nazionale è la democratizzazione che dicevi tu prima non è per vincere le olimpiadi però c'è tanta gente che potrebbe beneficiarne la mano la mano che avete visto prima con il power user che è questo signore che ci ha aiutato moltissimo a svilupparla ha origini lontane nel 2004 il nostro primo robot era questo quello che oggi voi lo conoscete iCub perché ormai è noto fa anche le pubblicità però prima di avere delle sembianze umane passarono anni ecco questa era l'iCub intorno agli anni 2008-2009 qui cominciava ad avere un po' di manualità ecco perché vi faccio vedere queste immagini siamo al 2010 perché vedete le prime mani erano queste per carità sofisticatissime hanno più di 20 gradi di libertà vuol dire che hanno più di 20 assi di rotazione normalmente se c'è un assi di rotazione per ogni falange falangina falangetta eccetera o per il polso ci deve essere un motore che spinge e tira che fa girare qualcosa allora una mano del genere c'ha una ventina di motori e se c'ha 20 motori c'ha 20 sistemi di alimentazione e 20 sistemi di controllo quindi per essere molto chiari costa un botto c'ha un sacco di contatti perché ogni motore deve sapere esattamente cosa comandare e non è proponibile come protesi è una bellissima formula 1 che fa delle cose straordinarie perché se guardate qui io continuo a litigare col telecomando ma non è colpa mia vediamo se vinco no non vinco e quindi torno indietro aspettate dicevo questa mano che probabilmente costa da sola oltre 50.000 euro consente al robot di scrivere questo è il robot che con un pennarello scrive il suo nome qui c'è tanto da dire ha imparato l'alfabeto ha imparato a mettere insieme le lettere intelligenza artificiale coordinazione vista a mano ma lasciamo perdere il robot scrive quindi uno potrebbe dire hai una tecnologia che può ridare la possibilità di scrivere al malato la risposta è no perché questo affare qui avrebbe bisogno di un intero reticolato di contatti di una batteria enorme una serie di complicazioni che non lo rendono fruibile allora dal 2010 abbiamo cominciato a dire ma si può semplificare e lì studio biomeccanico e guardate cosa succede qui a sinistra questa è una mano fatta con 3D printing di plastica quindi i costi si abbattono un solo motore uno solo alimentato da una pila di quelle standard da circa 9 watt di potenza in totale allora questa mano che abbiamo cominciato a sviluppare proprio con E-Nail ha un vantaggio è stata sviluppata copiando i sistemi sinergici della natura ha due tendini uno che spinge e uno che tira e può fare l'85% delle prese umane avendo solo due contatti perché il motore è uno solo quindi c'è un contatto per spingere e un altro per tirare questi contatti si mettono sull'avambraccio sono i contatti miei elettrici di cui vi parlava il presidente poc'anzi e quindi diventa vedete un solo motore questo motore qua semplicissimo se vogliamo un layout abbastanza geniale come idea perché con due tendini faccio quasi tutto sostanzialmente prendo la penna e chiudo le dita non posso suonare il piano non posso ogni dito controllarla ma posso fare quasi tutto qui vedete il paziente che educa i contatti sul moncherino quindi contraendo la parte di muscolo che funziona ha degli impulsi elettrici l'intelligenza della mano l'intelligenza artificiale legge e decodifica questi contatti e fa i movimenti che devono essere fatti ecco che a questo punto diventa sì una protesi possibile i nostri amici dell'Ineil ci insegnano ci aiutano a fare la protesi partendo dall'indotto passivo cioè quello che l'innesto passivo che si è sempre fatto ci consentono di innestare la mano con i contatti e quindi viene fuori un ibrido cioè quello che si faceva sempre per il paziente però con una serie di tecnologie che consentono di utilizzarla e dopo pochi mesi questo è il signore che avete visto prima che è un altro astronauta che fa le prove di certificazione CE per cominciare a far funzionare questa mano bene qui si fa la colazione si lamenta perché la moglie non gliela fa più perché ora se la può fare da solo però quello che è veramente molto bello che con una tecnologia di questo genere vedrete fra qualche istante ritorna in officina e riprende a utilizzare il martello il trapano tutte quelle cose e peraltro credo che fosse un artigiano che avesse perso la mano proprio in un incidente di lavoro 35 anni fa se non sbaglio cose di questo tipo ripeto è un astronauta è un altro esploratore lui secondo me è più scienziato di tutti noi perché ci ha aiutato moltissimo a sviluppare questa tecnologia ci ha dato le dritte ma capite con persone così con i medici e i tecnici dell'INAIL e con diciamo i rudi ingegneri elettronici chimici fisici eccetera dell'istituto alla fine mettendo insieme le forze questo signore torna in officina e guardate che cosa fa e questa mano a questo punto l'appetito viene mangiando non è una mano di 200.000 euro deve essere compatibile col sistema sanitario nazionale e quindi i primi prototipi qui vedete eravamo ancora i tempi dello scotch guardate il motorino si vede qui in cima lui tutto incollato ecco queste sono le prime prove da qui passa pochissimo tempo e si passa dalla plastica alla mano vera guardate che mano sofisticata questa deve costare circa 11-12.000 euro all'incirca 7.000 lì dal sistema sanitario nazionale guardate come si educa la mano da solo anche qui abbiamo fatto una domanda ma tu che cosa vuoi qual è la prima necessità e ci ha risposto voglio fare il bancomat cosa che non avremmo mai pensato perché per fare il bancomat non basta impugnare la carta ma devi poter girare il polso per entrare no? se no di far così a parte che mi fa male l'anca ed ecco quindi che arriviamo alla mano finita che è quella che avete visto prima che indossava ormai lui la indossa ed è quella che noi chiamiamo il prodotto ora siamo arrivati al punto che ci sono questi prodotti e qui diciamo parte la sfida perché questa roba va messa in produzione per grandi numeri a costi reali quindi a costi che siano sostenibili per il sistema sanitario nazionale e come tecnologia fruibile per tutti non può costare molto di più di un televisore al plasma per essere molto chiari perché se no non è una tecnologia di ampio dominio per i malati e ovviamente poi quando ci sono gli astronauti anche per fare cose eccezionali come ha fatto Martina però pensiamo a tutte le persone che si accontenterebbero di camminare o di fare il bancomat ecco questa è stata un po' la storia di questi 10-12 anni senza l'INAIL con tutto il suo carico umano di esperienze mediche di malati e senza gli astronauti questa cosa non sarebbe mai mai successa una precisazione un arricchimento anzi il signor Zambelli oltre ad essere un astronauta che ha partecipato a tutti gli effetti al gruppo di lavoro al gruppo di ricerca perché senza la sua esperienza quella mano non sarebbe così è anche un grandissimo giornalista nel senso che la più bella conferenza stampa che abbiamo fatto fu la prima quando presentammo la mano il presidente dell'INAIL e il presidente dell'ITI il dottor Galateri ci fu detto fate una presentazione ai giornalisti noi facemmo una conferenza stampa sostanzialmente muta da parte nostra e invitammo il signor Zambelli che venne e con quella mano ancora prototipale prese un bicchiere di carta non lo accartocciò ci versò l'acqua e beve poi prese un sostegno per una tartina e senza sgranarla si preparò una tartina e la mangiò e poi fece quello che avete visto impugnò un Black & Decker e bucò una tavola e prese un martello e su quella tavola piantò dei chiodi credo che fu la conferenza stampa più efficace che potessimo che potessimo mai fare e la spiegazione fu anche efficacissima la spiegazione che Zambelli dette e cioè quello che si diceva prima riconquistò la sua dimensione mentale oltre che corporale questo è il tratto credo più rilevante che va segnalato il discorso di mantenere bassi i costi è la sfida che noi adesso abbiamo e che dobbiamo tentare di vincere perché è necessario creare un sistema di produzione collaborando sempre in EIT che sia un sistema di produzione che possa mettere a disposizione dei tanti che hanno bisogno di queste protesi parliamo di centinaia di protesi necessarie l'anno parlo soltanto della mano mettere a disposizione di tutti una protesi così efficace che possa ridare quella dimensione complessiva alla psicologia dell'uso del corpo grazie ricordo quella conferenza stampa di cui lei parla dottor De Felice che fu davvero straordinaria e mi ricordo che si disse anche che questa mano sarebbe stata probabilmente disponibile a partire dal 2019 e quindi quello che mi piacerebbe chiedere a lei e al dottor Cingolani così in una battuta a questo punto voi avete vinto sicuramente una grande sfida che è quella di una collaborazione tra pubblico e privato che in Italia è piuttosto rara e devo dire che quello che voi avete fatto effettivamente è un unicum nella storia in questo settore e quindi diventa già un caso da manuale che terremo speriamo come esempio proficuo e virtuoso per il futuro però adesso voi siete di fronte a un'ulteriore sfida perché dovete portare questa mano come lei diceva a tante persone che l'aspettano con impazienza e dovete però trovare un modello efficace veloce e credibile per metterla in produzione a costi anche accettabili e quindi come state pensando di muovervi per arrivare a questo ulteriore definitivo step lo chiedo prima al dottor Cingolani e poi al dottor De Felice dunque noi abbiamo stiamo esplorando intanto il piano finanziario perché poi quando si fanno queste cose si scontra con i numeri se vai a vedere il numero di mani di protesi che servono in Italia o in Europa eccetera ti rendi conto che il mercato ha una certa dimensione devo dire per fortuna per fortuna non è un grandissimo mercato però è un mercato fondamentale come puoi immaginare quindi a partire dai numeri che sono stati elaborati poi ci sono diversi modelli uno può essere secondo me sarebbe quell'ideale avere un gruppo di investimento in grado di mettere direttamente in piedi le linee di fabbricazione perché così puoi fare tutto in house e i costi si abbassano e 3D printing elettronica puoi stampare tutto a casa il secondo è di diciamo di demandare la produzione di queste tecnologie ad una start up che l'IT ha già fatto c'è già una start up muovendo technology che però fa altre macchine fa altre cose ma sempre nel settore riabilitativo la qualcosa però va ovviamente affrontata capendo come poi siano i rapporti con le diverse realtà coinvolte la terza potrebbe essere quella di dare in outsourcing quindi licenziare quasi tutto qualcuno che lo faccia fuori però vuol dire per certi versi perdere un po' il controllo della tecnologia purtroppo in questo momento come tutti sanno non lo dico io non lo scopro io il meccanismo del fondi investimento non sono particolarmente attivi in Italia è più facile portare le cose all'estero che svilupparle in Italia e quindi su questo bisogna fare delle scelte molto accurate molto mirate è proprio di questi giorni direi se posso anticipare qualcosa stiamo per vederci proprio per convergere su una decisione comune per portare avanti questa iniziativa che a questo punto è industriale quindi se vogliamo è già prescinde già dalla missione di Inail e dalla missione di IT stiamo già facendo oltre tra virgolette oltre il nostro dovere però direi che è una sfida tutta italiana e va assolutamente e anche con pochi presidenti nel mondo non mi pare ma l'Inail crede moltissimo in questo tipo di attività noi abbiamo fatto due passi fondamentali già lo accennavo il primo è creare una rete di istituzioni di eccellenza dove fare gli studi e portare a un livello prototipale le cose che si sono realizzate abbiamo visto la mano ma ugualmente preziosa è l'esperienza che stiamo facendo sull'esoscheletro ne avete visto un prototipo sì quindi creare il primo passo che abbiamo fatto creare questa rete di collaborazioni al centro per certi versi perché importante sono gli utilizzatori c'è Budrio intorno a Budrio c'è una costellazione di eccellenze che studiano e producono poi abbiamo fatto un altro passo abbiamo sfruttato la sensibilità di un ministro e di un di un punto di vista e l'Inail è stata autorizzata a creare o a partecipare a start-up purché queste start-up abbiano finalità sociale quindi l'autorizzazione a procedere in uno schema costruttivo di industrializzazione l'Inail adesso ce l'ha a questo punto manca il passo di scelta dobbiamo scegliere insieme perché poi il brevetto fra virgolette è un brevetto condiviso dobbiamo scegliere insieme come procedere l'annuncio che è stato fatto l'ho fatto io ripetendo il parere della tecnostruttura nella relazione annuale a giugno scorso entro il 2019 speriamo di avere in produzione questa mano è il nostro obiettivo e adesso abbiamo fatto gli studi preliminari di impostazione entro credo pochi giorni avvieremo con IT un approfondimento operativo speriamo dopo aver avuto il marchio CE di poter procedere a questa fase di completamento dell'attività per arrivare effettivamente allo schema produttivo e quindi all'organizzazione di una struttura capace di produrre non abbiamo alcuna preclusione sulla soluzione da percorrere l'obiettivo primo è quello di mettere a disposizione a costi contenuti questo arto robotizzato che sappia riportare diffusamente il soddisfacimento delle esigenze di vita non soltanto sarà strumento per chi da oggi in poi avrà amputazione ma noi stiamo facendo un approfondimento anche sugli utilizzatori di arti artificiali perché ugualmente interessante è la sostituzione di arti non così raffinati con le nuove soluzioni tecnologiche una mano digitale come si chiama è meno efficace è meno efficiente dà meno forza di vita rispetto all'arto che avete visto che consente anche di guidare un'automobile senza dover mettere controlli speciali grazie ecco Martina Cajroni dicevamo lei è proprio la testimonial ideale di come si può già vivere nel presente con queste protesi lei ci spiegava che ce ne sono di tanti tipi diversi a seconda delle attività che vuol fare ci racconta un po' che cosa significa qual è l'approccio psicologico che bisogna avere per imparare a convivere con queste parti robotizzate ed elettroniche e poi a farle diventare in fondo una parte di se stessi per poi sia vivere la quotidianità ma poi per prepararsi anche a un'olimpiade perché so che lei parteciperà alle olimpiadi di Tokyo giusto? sì dunque il primo approccio è stato sicuramente quello così di di fidenza perché mi ricordo ero in ospedale è arrivato questo medico austriaco con un ginocchio elettronico io ero sotto morfina appoggia questo ginocchio dice Martina sciare e ricordo di quel periodo ricordo proprio quell'episodio perché lui aveva già in mente di mettermi sugli sci con un ginocchio elettronico e io non conoscendo per niente il mondo delle protesizzazioni delle protesi niente di niente l'idea di indossare un ginocchio una cosa così diversa dal mio arto naturale eccetera mi spaventava e per di più non avevo idea di come avrebbero ancorato questo ginocchio io pensavo mancandomi la gamba dal ginocchio in giù quindi praticamente ho tutto il femore pensavo che mi mettessero una calza qualcosa che arrivasse poco qua e invece la mia protesi arriva praticamente all'inguine perché è un invaso che ovviamente avete visto per poter rimanere su ha bisogno di questa dimensione detto questo il primo approccio è stato con un ginocchio meccanico e la camminata era abbastanza come dire faticosa ma anche poco naturale e infatti poi dopo quell'esperienza io ho capito che a mio avviso sarebbe meglio far indossare come prima protesi già un ginocchio elettronico perché è più simile alla camminata naturale e invece è prassi mettere prima un ginocchio diciamo più sicuro insomma sono scuole di pensiero però da utilizzatrice io la penso così quando poi dopo qualche mese ho indossato questo ginocchio elettronico già la storia è cambiata nel senso che ho iniziato a sentirmi molto più agile e a fare delle cose che prima non riuscivo a fare quindi anche solo visitare una città e fidarmi nelle discese perché comunque friziona nella discesa sono tutte delle accortezze che poi ho realizzato negli anni in sostanza il segreto è quello di fidarsi della protesi innanzitutto conoscerla e poi imparare a fidarsi quindi io sono arrivata con questa protesi a saltarci sopra cioè a fare un salto e ad atterrare sulla protesi sapendo esattamente quanto mi frizionerà quanto diciamo agio avrò nella caduta cioè nella caduta nell'atterraggio oppure anche iniziare una salita con la protesi iniziare una discesa con la protesi stare in equilibrio sulla protesi alzando la mia gamba tutto questo non si impara da un giorno all'altro ma c'è bisogno di allenamento come in tutto chiaramente per chi non ha un arto diciamo che il tempo ce l'ha per imparare perché si suppone che non ricresca anzi non ricrescerà e io ho imparato anche abbastanza in fretta perché la mia predisposizione mentale era quella di una ragazza a parte giovane che comunque anche l'età può influenzare diciamo la riabilitazione perché a 18 anni comunque genericamente una persona è attiva è fresca insomma è giovane quindi per me è stata una sfida fin da subito e anche mi incuriosiva vedere cercare di capire fino a che punto mi sarei potuta spingere e infatti ancora io continuo a fare sempre di più sempre di più come vedete una delle ultime cose è andare sui pattini che con il ginocchio di prima non potevo fare e che ho ripreso a fare perché lo facevo prima insomma con la mia gamba e anche lì l'evoluzione della tecnologia io non so dove ci porterà addirittura adesso fanno anche degli impianti nell'osso cioè ti attaccano una protesi diciamo direttamente nell'osso questa è una cosa che io non mi sento di fare è consigliata per chi magari ha un'amputazione molto alta e quindi non riesce ad avere una protesi che si ancori adeguatamente e quindi diciamo che ci sono questi sistemi innovativi e parlando invece finalmente di queste protesi da corsa che poi hanno fatto mi hanno permesso di arrivare anche ad alti livelli fin da subito lì la questione è leggermente diversa perché immaginatevi di dover cancellare completamente quello che avete imparato fino adesso e ricominciare da zero prima di tutto con la camminata e poi con la corsa mi hanno dato questa protesi che aveva un ginocchio diverso da quello che avete visto e una lamina che era ancora diciamo rispetto a quelle di adesso vecchia perché in 8-10 anni la tecnologia ha fatto dei passi veramente che se vedete allora io ho iniziato nel 2010 nel 2012 ho fatto le Paralimpiadi di Londra dove ho vinto inaspettatamente anche abbastanza inaspettatamente i 100 metri correndo male correndo male con un record del mondo di 15 e 89 adesso io sono arrivata a 1461 vi dico questi numeri per farvi capire che nei 100 metri insomma scendere così tanto ci vuole sì l'allenamento ma effettivamente io non non mi non dico che è solo merito mio perché è merito anche delle protesi chiaramente le stesse protesi ce le hanno anche le mie avversarie quindi poi dopo la differenza lo fa non lo so che cosa lo fa l'atleta la passione la determinazione e quant'altro quindi lì anche lì ho imparato a fidarmi di questo nuovo strumento che all'inizio mi faceva correre in maniera era un po' scattato così l'hanno rinominato il beccheggio perché io correvo intanto muovevo la testa avanti e indietro per compensare forse anche una carenza di muscoli diciamo del primo periodo poi anche lì non si diventa atleti da un giorno all'altro nonostante io abbia vinto una gara alla Paralimpiade io non ero un atleta e lo si vede anche proprio dal filmato in cui ero visivamente più in carne e non ero pronta però ho potuto vincere anche perché a livello mondiale il livello non era ancora così competitivo e sono stata proprio io ad abbassare questa soglia nel senso a rendere sempre più difficile poi vincere una gara sui 100 metri nella mia categoria poi noi vabbè siamo divisi per categorie seconda della disabilità però non vorrei poi andare troppo diciamo fuori tema dopo le Paralimpiadi di Londra un anno dopo più o meno finalmente è arrivato anche in Italia questo ginocchio che già una mia avversaria australiana utilizzava che però è arrivato successivamente in commercio in Italia che è questo ginocchio che utilizzo percorrere che come vi dicevo è libero cosa vuol dire libero vuol dire che se io appoggio il peso quando il ginocchio è flesso io cado perché il ginocchio non tiene e voi direte ma è pericolosissimo esatto però si può imparare ad utilizzarlo perché il motivo per cui è libero è perché nella corsa tu devi essere fluido quindi non devi far fatica nell'estendere il ginocchio l'unica cosa devi ricordarti poi di dare questa botta forte di tirare indietro la gamba in modo che nel momento in cui appoggi la protesi il ginocchio sia steso e allora lì ti tiene perfettamente e dopo una bella caduta che ho fatto quando me l'ha andato io ho capito perfettamente cosa fare cosa non fare tant'è che mi è anche successo di andare a insegnare a dei ragazzi e di fare quelle raccomandazioni che magari a me non erano state fatte le ho imparate sulla mia pelle ed è per esempio nella fase di frenata se voi correte vi faccio un esempio voi che avete le vostre gambe chi ha le gambe fare una corsa e voi decelerare voi frenare l'istinto è quello di portare indietro magari il busto e frenare non si sa con quale diciamo con quanto tempo invece per noi assolutamente questa è una cosa tabù perché se andiamo indietro con il baricentro il ginocchio si apre e noi cadiamo quindi per noi la decelerazione è molto graduale anche dopo le gare un po' chiaramente per l'inerzia ma un po' anche proprio perché se no c'è questo rischio e sempre per la fiducia e per l'esperienza io sono riuscita poi ad utilizzare questa protesi proprio ad occhi chiusi praticamente perché so esattamente come si comporterà prima stavamo parlando per esempio dello sfaso diciamo di cambiare i pattini per chi è sempre stato abituato ad utilizzare dei pattini con le quattro ruote e poi passa ad utilizzare i roller che ce li hanno in linea e dice non riesco è troppo difficile pensate per me che all'inizio io utilizzavo una protesi da cammino e poi mi dovevo mettere l'altra con un ginocchio totalmente diverso e cambiava tutto e all'inizio per me era tipo ok Marti ricordati che hai su quella protesi e non l'altra invece adesso è una cosa naturalissima cioè io so che con quel ginocchio lì da corsa non posso camminare o se cammino devo stare molto attenta oppure lo posso anche bloccare volendo che c'è una levetta per bloccarlo e quindi alla fine è tutta questione di abitudine di imparare e di avere domestichezza proprio nel gesto tecnico e sì poi anche a livello posso aggiungere anche questo che a livello psicologico il fatto di iniziare anche a fare sport e ad utilizzare una protesi che non può avere un'estetica nel senso non può avere non può somigliare alla tua gamba ma è totalmente diversa anche questo se ci pensate non è una cosa che fai da un giorno all'altro perché le prime volte che io andavo al campo e mi dovevo cambiare la protesi e mi mettevo quell'altra cavoli anche a livello visivo per me era un bel impatto e anche per la gente che magari non l'ha mai visto può essere d'impatto e poi lì è tutta questione di abitudine però a me lo sport ha aiutato tantissimo perché mi ha sbloccato diciamo quella paura di sentirmi diversa e anzi ha fatto di me ha fatto di quella diversità una caratteristica di cui anche andar fiera perché poi per i risultati sportivi e in generale perché ho capito che che stavo facendo qualcosa di buono grazie Martina per questo racconto così emozionante e appassionato io direi che abbiamo ancora un paio di minuti e chiederei magari come conclusione a Roberto Cingolani abbiamo visto dei progressi straordinari proprio da questi video in pochi anni in un decennio la situazione è cambiata totalmente dovessimo immaginare le protesi fra dieci anni per le gambe e per le braccia e per le mani che cosa possiamo pensare molto interessante grazie per questa domanda dunque io vedo due scenari molto chiari uno consentimi di rimanere sempre in ambito diciamo Formula 1 ci sarà sempre una Formula 1 e poi ci sarà sempre un trasferimento dalla Formula 1 all'utilitaria allora secondo me assisteremo ad una progressiva democratizzazione e fruibilità di queste tecnologie mi pare che oggi un po' si vada in quella direzione quindi costi più bassi migliore efficacia introduzione progressiva dell'elettronica feedback eventualmente anche qualche feedback sensoriale indiretto per esempio tatto o misura della temperatura non che tu senti come se fosse la tua mano ma attraverso un trasduttore per esempio una vibrazione ti dice se una cosa è duro morbida un suono ti dice se è caldo o fredda perché si può creare un sistema economico e molto funzionale però dall'altra parte versione Formula 1 io credo che uno dei trend che verrà sviluppato e che sarà oggetto di grande impegno è quello dell'interconnessione al sistema nervoso centrale guarda noi in questi non più di una settimana fa uno dei nostri ricercatori ha vinto un ERC che sono i più prestigiosi progetti finanziati dell'Europa individuale da 10 milioni quindi una roba molto grossa per lo sviluppo di protesi che verranno interconnesse direttamente al sistema nervoso allora oggi c'è della sperimentazione che si fa da diversi anni in realtà ma il problema è che traduco in maniera un po' brutale invece di avere questi contatti mioelettrici che tu poggi sulla pelle che registrano segnali di superficie teoricamente tu metti un pezzo di metallo in contatto col sistema nervoso c'è il modo di trasdurre il segnale ionico del sistema nervoso con il segnale elettrico necessario alla protesi però questo è invasivo crea intanto c'è una reazione dei tessuti quindi spesso questa roba dopo qualche mese è un disastro poi come ci raccontava Martina la fruibilità cioè poi non fai il bagno perché insomma c'hai un pezzo di metallo inserito sotto pelle mettiamo così però ci sono delle tecnologie che si stanno sviluppando sia dal punto di vista dei materiali compatibili non necessariamente metallici che dell'inclusione della sensoristica e immagino fra dieci anni secondo me si comincerà a parlare molto seriamente di protesi che sono interconnesse quindi che tu cominci ad avere interconnesse all'altro sistema neurale è tutto nervoso e tutto sommato credo che una delle grandi sfide sia per ridare l'uso per esempio della parte bassa del corpo a quelli che hanno delle lesioni spinali molto gravi fare il ponte diciamo poi probabilmente puoi usare tecnologie tipo quelle che abbiamo visto prima perché di per sé ormai le gambe ci sarebbero il problema è il controllo credo che ci sia una strada tracciata lunghissima e l'altra grande sfida è quella della vista perché sai qui parliamo di protesi purtroppo gli ipovedenti sono una categoria da questo punto di vista un po' trascurata oggi esistono delle protesi con telecamere transcraniali insomma roba oggettivamente poco fruibile tu sai che noi abbiamo la retina artificiale che viene impiantata come una cataratta alla fine come intervento lì bisogna sviluppare delle protesi che sono pensate per il paziente zero invasività nessuna batteria nessun pezzo di metallo è una roba che tu metti dentro l'occhio e che viene alimentata in maniera fotovoltaica come se fosse una cella solare e che ti ridà la vista insomma quando si parla di ridare funzionalità a un essere umano che ha avuto la sfortuna di perdere una delle sue funzioni credo che a parte che purtroppo c'è solo la scelta perché ci sono tantissime sfortune di questo tipo ma credo sia un dovere per la tecnologia affrontare questi problemi per noi questa è una priorità dico sinceramente il 90% della motivazione per IT di fare robotica è per farla sull'essere umano non per fare la guerra l'intelligenza artificiale che ci dovrà un giorno non so superare invadere il mondo quelle cose li mi danno anche abbastanza diciamo che i robot sono degli oggetti utili che fatti a pezzi pezzo per pezzo possono essere utilizzati per aiutare le persone tutto il resto mi sembra onestamente una science fiction molto fuori luogo volevo dare altri due segnali importanti abbiamo parlato di protesica ma con strumenti analoghi alla protesica si fa prevenzione per esempio l'esoscheletro può servire anche per aiutare chi lavora a prevenire danni per esempio dall'alzare i pesi quindi è una integrazione molto forte quella della protesica con la prevenzione e la tecnologia è alla base di entrambe le utilizzazioni l'altra cosa che volevo segnalare è che lavorare riflettere su queste problematiche deve portare anche a cambiare le forme di didattica che noi applichiamo nella scuola e nell'università abbiamo promosso con l'INAIL e con la università di Roma sapienza un master innovativo su problematiche legate alla sicurezza nel lavoro e l'abbiamo voluto marchiare con un termine che sembra nuovo ma in realtà risale alle intuizioni di Wiener proprio nel suo libro sulla cibernetica abbiamo detto che quel master è fatto con una didattica antidisciplinare che cosa significa questo che bisogna diventare proprio per gestire tutta questa innovazione tecnologica estremamente esperti in una disciplina ma capaci di intendere anche il linguaggio di tutte le altre discipline che debbono essere messe insieme per risolvere il problema quindi bisognerebbe partire da prima dell'università per dare una cultura che guarda alla risoluzione dei problemi e a impadronirsi di tutte quelle tecniche magari anche profonde che servono da mettere insieme per risolvere il problema e non mantenere le cose separate anche le scienze umane come abbiamo visto l'esigenza di approfondimenti psicologici per gestire la tecnologia protesica sono fondamentali in questo schema appunto detto antidisciplinare grazie grazie allora io direi che ci salutiamo qui stasera con questo messaggio di di amicizia e di alleanza tra umani e roboconi con i robot e con la loro tecnologia che sempre di più potrà aiutarci anche a ritrovare l'umanità perduta grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti